Picciotti, bentornati su MyAnimeAcademia. Oggi torniamo a parlare di One Piece e parliamo di un argomento che ha veramente spaccato in due la community dopo gli avvenimenti del capitolo 1079. Iniziamo con calma. L'avvenimento di cui sto parlando è la sconfitta di Justus Kid per mano di Shanks il Rosso e da qui si è scatenata per le modalità con cui essa è avvenuta la domanda più famosa attualmente all'interno della community. È Shanks troppo forte o è Kid che è sempre stato scarso e lo abbiamo un po' sopravvalutato? Secondo me la verità sta in mezzo, parliamone. Allora, prima di rispondere a questo punto di domanda bisogna fare un po' di chiarezza in merito alle parti in causa nel combattimento. Da un lato avevamo Kid, Killer e gli altri sottoposti facenti parte della ciurma di Kid, insomma, e dall'altro avevamo Shanks, ciurma di Shanks, Dory e Brogy e altri giganti. Il tutto si svolgeva non in un territorio di mezzo, quindi per esempio come lo scontro tra Lowettich che è a Winner Island. Il tutto si svolgeva ad Elbaf, il territorio all'interno del Warland che praticamente viene protetto da Shanks il Rosso, quindi Shanks stava giocando in casa, Kid stava giocando in trasferta. Mi duele un po' dirlo, Picciotti, ma quella di Kid era una sconfitta annunciata fin dal principio e questo lo sapevamo tutti. Ma, nonostante questo, la modalità con cui è avvenuta è stato comunque un certo clamore all'interno della community. Molti hanno storto tantissimo il naso dopo questo capitolo. Hanno storto il naso perché Shanks, con una sola tecnica, Kamusari, che è la stessa tecnica di Roger, che Roger scagliò contro Oden, ha one-shotato praticamente sia Kid che Killer contemporaneamente. Ora, io all'inizio dissi che secondo me la verità sta in mezzo. Partiamo con Shanks. Shanks è un personaggio che c'è sempre, sempre stato presentato dal maestro Oda come un personaggio di una certa caratura. Non abbiamo mai visto, o meglio, non avevamo mai visto combattere Shanks prima d'ora in più di vent'anni di manga, ma in qualche modo ci facevamo sempre un'idea quando lui spuntava. Questo perché il maestro Oda gli ha sempre ritagliato dei frangenti che facevano di lui un vero e proprio Deus Ex Machina. Sia quando va a parlare con Igor Osei, sia quando arriva a Marineford a interrompere la guerra e tutti quanti come dei cagnolini obbediscono. Insomma, Shanks è sempre stato quello che ha sempre dato una percezione di essere veramente fortissimo. E adesso ne abbiamo avuto la prova. Però questo giustifica l'incredibile one-shot che ha effettuato nei confronti di Kid? In realtà, la community si è lamentata non tanto per il one-shot in sé, ma per il fatto che Kid veniva da una saga in cui aveva sconfitto un'imperatrice. Quindi come a dire, aveva avuto una certa crescita. Perché adesso è stato buttato giù improvvisamente? Molti hanno detto che Oda potrebbe essersi pentito dell'incredibile forza data a Kid e potesse aver deciso, insomma, di buttarlo giù. Io non sono per niente d'accordo con questa scelta. E per motivare questa mia discordanza, voglio farvi tornare un attimo a Wano. A un elemento che ha catturato particolarmente la mia attenzione all'epoca è che credo che sia stato un forte indizio di quello che è stato il destino di Kid oggi. E sto parlando della sconfitta di Hawkins. Poco prima di essere sconfitto da Killer, Hawkins pesca una carta e pesca la torre. La torre che stava a simboleggiare, insomma, nei tarocchi o ampissiani, la caduta del vecchio e l'avvento del nuovo. Quindi, praticamente, la caduta della vecchia era, che in quel momento era simboleggiata da Kaido e Big Mom, e l'avvento della nuova, che in quel momento era simboleggiato chiaramente dalle tre supernove alleate. Quindi, in quel momento, il vecchio ha fatto spazio al nuovo. Però, ci siamo dimenticati un piccolo particolare. Il maestro Oda è solito usare i personaggi. Quando dico usare i personaggi, certo, in questo modo sembra un po' cattivo. Ma vi ricordate quello che ha fatto con Ace? Ace ci è stato presentato come un personaggio fortissimo. Ogni volta che compariva, dava sempre sfoggio delle sue abilità. Luffy lo vedeva come un esempio, sia dal punto di vista comportamentale che combattivo. Ma per che cosa è stato utilizzato Ace, narrativamente? Per dare rilievo a Barba Nera. Il suo personaggio è stato soltanto utilizzato come capro espiatorio per la guerra di Marineford, ed è stato giustiziato in quanto figlio di Roger. Anche all'epoca, molti fan si lamentarono perché si erano affezionati ad Ace. Ma il maestro Oda costruisce i personaggi per utilizzarli per la trama che lui ha pensato. Allo stesso modo, sono stati utilizzati, secondo me, sia Kid che Lou. Ma per il momento mi concentro col parlare di Kid. Perché ho fatto l'esempio della torre? Perché l'avvento della nuova era, simboleggiato dalla torre pescata da Hawkins, è stato un indizio da parte del maestro Oda, secondo me, per dire che, nonostante avesse dato un'incredibile gloria a Kid in quell'istante, ci vuole veramente un niente per buttarlo giù. Quanto più arrogante sei e quanto più in alto voli, tanto più dolorosa sarà la caduta. Il fatto che abbia battuto Big Mom, ovviamente in tag team con Lou, non significava che avrebbe avuto, che sarebbe stato da quel momento in poi, level Yonko e che nessuno avrebbe mai più potuto mettergli i bastoni tra le ruote. Infatti, oltre al fatto che Big Mom è stata abbattuta da un'alleanza, quindi da due pirati che oggi hanno una taglia da 3 miliardi, ci siamo dimenticati un piccolo particolare. A Wano, quando Big Mom si arrabbia con Page One e Ulti, sferra un pugno a Page One rivestendo il suo pugno di Haki del Re, cosa che non fa mai quando si scontra con Kid e con Lou. Nonostante la finale percezione della morte di Big Mom, non è stato mai utilizzato l'Haki del Re rivestito da quest'ultima. Neanche quando ha capito che stava morendo. Contro Kid e Lou, l'Haki del Re non è stato mai utilizzato da parte di Big Mom. Eppure poco prima c'era stato fatto vedere, quindi era in grado di usarlo. Questa è una vera e propria forzatura, non quella che vediamo oggi con Shanks. Eppure, all'epoca nessuno si è lamentato di questo, o comunque pochi l'hanno fatto. Era lecito portare Kid e Lou in alto. Ma improvvisamente oggi non è lecito riportarli in basso. E quindi quello che io ho pensato, vedendo adesso la caduta di Kid contro Shanks, è che Oda abbia appositamente portato questi due personaggi in alto, mi riferisco chiaramente a Kid e Lou, per poi portarli repentinamente in basso. Per far vedere che quanto più in alto voli, tanto più dolorosa sarà la caduta. Oda fa quello che vuole, i personaggi li usa come vuole. E la sconfitta di Kid è servita soltanto per darci un segnale, che di certo non c'è nulla in One Piece. Quindi è una forzatura che Kid sia stato one-shottato da Shanks? Secondo me no. Sbaglio o anche Luffy è stato one-shottato da Kaido a inizio Wano? Però allora Kaido era visto come qualcosa di estremamente affascinante perché aveva one-shottato Luffy. Luffy veniva addirittura deriso per quello. Improvvisamente, però, se lo fa Shanks, diventa un'incredibile forzatura e una cagata narrativa da parte di Oda. Qualcosa mi fa pensare che ci sia una sorta di antipatia per il personaggio del Rosso che si è creata da parte di una minoranza di lettori nei confronti del personaggio proprio perché una maggioranza lo ama. Oggi penso quindi che il gap tra Shanks e Kid fosse veramente enorme. È chiaro poi che analizzando il modo in cui è avvenuta la sconfitta è tutto molto repentino. Cioè Kid non si aspetta nemmeno di vedere Shanks dinanzi a sé in quel momento e di ricevere il colpo. Questo perché Shanks ha avuto un'acchi della percezione super sviluppato e ha visto un futuro tragico che però sarebbe accaduto molti secondi dopo. Quindi è stato tutto... Si è svolto tutto in una frazione di secondo. Shanks ha deciso di anticipare Kid. Quel colpo è stato fortissimo, tant'è che Killer l'aveva previsto, insomma che sarebbe finita male, e ha tentato di proteggere il suo capitano. Ma sono stati one-shotati entrambi. Alla luce quindi di quello che è successo ora e di quello che è successo a Wano, mi tocca dire che sì, Kid è stato sopravvalutato. Occhio, quando dico che un personaggio è sopravvalutato non intendo dire che è scarso, intendo dire che è stato valutato di più rispetto a quello che merita. È un personaggio che ha battuto un'imperatrice anziana alleandosi con un altro pirata e questa imperatrice nemmeno utilizzava l'acchi del re rivestito. È normale che oggi non possa fronteggiare uno Yonko in 1v1 e stiamo parlando dello Yonko che più di tutti utilizza al meglio oggi l'acchi del re. Ricordiamoci a quanti metri di distanza ha intimorito Ryukugyu a Wano Shanks con il suo acchi del re. Ora, la domanda è molto semplice. Lo stesso destino toccherà all'O? Per il momento non mi posso sbilanciare più di tanto però io dissi in un vecchio video che abbiamo portato sul canale e che vi invito ad andare a recuperare quando analizzai la situazione di Kid, Low e Luffy che un futuro con Teach, Shanks e Luffy è molto più allettante che un futuro con Luffy, Low e Kid. Ed effettivamente si sta concretizzando proprio quello che dissi. Quindi, per il momento, picciotti e tutto io vi invito a riflettere sulle critiche che ho fatto e vi invito a commentare sia se siete d'accordo e sia se non siete d'accordo. Noi ci vediamo alla prossima. Sayonara. Bene picciotti, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara. Grazie. Grazie.